Dopo una settimana dei rischi siamo riusciti veramente a avere questa satisfazione perché non era facile. Ieri abbiamo fatto un allenamento anche senza Nicolò che alla fine non è potuto giocare. È una settimana molto speciale e come sempre io faccio complimenti ai ragazzi che sono entrati, sono stati veramente bravissimi. È una partita molto difficile non solo a livello tecnico ma anche a livello psicologico dopo aver perso i giocatori molto importanti per noi, però sono molto contento perché hanno tenuto, hanno dimostrato che ci tengono, hanno dimostrato che questo obiettivo ancora c'è. Dobbiamo continuare così, costa quello che costa, sfiga quella che venga, non importa. Noi dobbiamo continuare a lavorare e portare lo più alto possibile il nome del lavoro. Sono molto contento, ringrazio come sempre al pubblico Spoletino che ci ha dato un'altra volta la forza giusta per poter vincere questa partita. E niente, la prossima settimana ci vediamo Chieti che è anche importante, spero di vedere un altro panorama come lo vediamo ogni sabato in Spoleto. Grazie di nuovo e forse Spoleto. A prossima settimana. Grazie.